Uno scontro frontale a pochi chilometri dal Molise a confine con la Puglia sulla statale 17 in territorio di Volturino, un impatto che è stato fatale a Maria Letizia Micco, 20 anni che era a bordo della sua Citroen C3, studiava a Campobasso Scienze della Formazione Primaria all'Università del Molise, era al secondo anno e da quanto si è appreso, prima di mettersi in macchina aveva partecipato in Ateneo a una riunione dei tutor per i ragazzi diversamente abili che aiutava oltre a essere una brillante studentessa, lei era di Sant'Angelo a Cupolo, paese nel Beneventano, l'utilitaria sulla quale viaggiava la giovane si è scontrata con un'auto guidata da un uomo di 59 anni che è rimasto ferito. Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei rianimatori dell'elisoccorso, sul posto anche i vigili del fuoco di Lucera, i sanitari del 118 e la polizia stradale di Foggia per i rilievi. Sconvolta la comunità di Sant'Angelo a Cupolo che si è stretta al dolore dei genitori e della sorella di Maria Letizia, scossi gli amici dell'Ateneo Molisano dove era ben voluta e apprezzata e dall'Unimol è arrivato il messaggio di cordoglio del rettore Luca Brunese, della direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e della formazione del direttore generale e dell'intera comunità accademica che hanno espresso profonda commozione e tristezza per quanto accaduto e vicinanza alla famiglia della ragazza, alle colleghe e ai colleghi di corso e ai docenti che l'hanno conosciuta apprezzandone l'impegno negli studi e la sua spiccata dedizione agli altri. Maria Letizia era, come detto, tutor alla pari.